Fai uso per caso di sostanze psicotrope? Io. Crunchy, scrocchia e crispy, scricchiola. Il focus di oggi sarà un pochino diverso. Potrete votare se sono crunchy o crispy, i suoni che andremo a sentire tra poco. Ho crunchy per tutti, crispy per Matteo. Vabbè, il primo, dai. Poi migliora. Poi migliora. Non so come fate ad essere così bravi. È la crunch. Proprio la... Shafi. Adesso va in crisi, va in crisi. Vuoi bene? Sì, sto parlando ai falangi. Non senti la differenza tra i suoni? Secondo me sto iniziando a sentire le voci. Cazzo. La differenza stia nella... E crispy è più crumbling, è più sharp, è più... Oddio. Questo è uno scherzo. I suoni erano sempre gli stessi. Di solito. Sì, sì. È più... È più... È più... I suoni erano sempre gli stessi. Sì, sì. Grazie.